Parliamo del regime della tassazione delle persone giuridiche a San Marino. Infatti, questa Repubblica offre un regime fiscale competitivo. L'imposta generale sui redditi ordinari alla EGR per le società è pari al 17% dell'utile fiscale. Però, alle nuove attività di impresa che sono esercitate in forma individuale o sotto forma di libera professione, i cui titolari non abbiano esercitato a San Marino nei 12 mesi precedenti alla presentazione della richiesta di attività economica assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai benefici, è riconosciuta un'esenzione fiscale pari al 50% dell'imposta ordinaria e ciò per i primi 5 anni. Questa esenzione, quindi, riduce la tassazione all'8,5% dell'utile. In più, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di rilascio della licenza anche della tassa di rinnovo per i successivi 3 anni. In più, i benefici che abbiamo appena detto si possono applicare anche alle società di capitali i cui soci però non abbiano esercitato a San Marino nei 12 mesi precedenti alla presentazione della richiesta attività di impresa assimilabile a quella per le quali chiedono l'accesso ai benefici. Ciò però in presenza di determinate condizioni. Che sono le seguenti? Quando si tratta di società di nuova costituzione, quando si propeda ad assumere almeno un dipendente, compreso l'amministratore anche se non è iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché venga assunto a tempo pieno ed entro sei mesi dal rilascio della licenza, e l'assunzione di un ulteriore dipendente entro 24 mesi dal rilascio della licenza. Altri incentivi per le attività di impresa ce ne sono molti, ad esempio l'abbattimento del reddito imponibile dal 40 al 90% fino ad ammontare pari agli investimenti in beni strumentali o immobiliari, la deduzione delle perdite fiscali dal reddito imponibile e ciò fino all'80% del reddito, in più i costi a San Marino sono integralmente deducibili ad eccezione delle spese di pubblicità e di sponsorizzazione che sono deducibili solo fino all'8% dei ricavi di gestione, ad eccezione dell'elaborazione dei dati di ricerca di mercato che sono deducibili fino al 10% dei ricavi di gestione, e ad eccezione delle spese di rappresentanza che sono deducibili fino al 5% dei ricavi di gestione. Queste limitazioni però possono essere disapplicate se si dimostra che le operazioni rispondono all'interesse economico dell'impresa ed hanno avuto concreta attuazione. Inoltre è prevista la deducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti per l'acquisto di attività immobilizzate deducibili. Inoltre a San Marino i dividendi corrisposti a persone fisiche vengono tassati al 5%, le royalties corrisposte a soggetti non residenti sono tassate al 20%, è prevista una ritenuta fiscale del 13% applicata alle società sugli interessi pagati per i finanziamenti concessi ad altre società e persone fisiche, però questa ritenuta non si applica se il finanziamento è concesso da parte di un istituto di credito di San Marinese. È prevista una ritenuta fiscale dell'11% applicata agli interessi sui conti correnti e sui depositi e tale ritenuta non si applica ai soggetti non residenti. Infine è prevista una ritenuta fiscale del 5% che si applica su interessi e proventi da operazioni pronti conto termine. Questa ritenuta però non si applica ai soggetti non residenti.